È un soldato cristiano e nel periodo in cui Maurizio vive non è possibile essere cristiano. È vietato, è vietato, nell'impero romano, è vietato essere cristiano. Se un cristiano prega, arriva l'imperatore, lo prega e lo uccide. Quindi vediamo il povero Maurizio, che è martir, che è vicino, perché è cristiano. Chi è a mezzogliere di Marti, quindi è un'immagine di Roma. Da questa parte invece abbiamo sempre di Bernardino Lugini, se puoi stare per l'attimo. Da questa parte invece abbiamo sempre di Bernardino Lugini questa cappella e quello è il committente. D'accordo, un'opera sempre di Bernardino Lugini, questo signor Rezozzi, lo vedete inginocchiato. Lui ha pagato Bernardino Lugini per avere questa cappella e quindi anche lui ha diritto al suo ritratto. Grazie. 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 Grazie.